Nel giorno del Friday for Future, la Regione Marche presenta un bando sull'economia circolare della dotazione di quasi 2 milioni di euro a valere su risorse regionali. La misura offre opportunità di finanziamento a fondo perduto a quelle imprese che investono secondo le logiche di miglioramento ambientale ed economia circolare. Gli ambiti tematici vanno da riutilizzo e riciclo di materiali compositi o altri materiali plastici e l'eco-design, nuovi modelli di business applicati ai settori dell'arredo, del made in Italy e del packaging, fino al trattamento e valorizzazione di scarti organici e inorganici, anche attraverso approciti, digitalizzazione e simbiosi industriale. È noto che buona parte delle emissioni dell'effetto serra derivano dalla produzione delle materie prime e quindi riutilizzare parte di queste materie non ha solo benefici anche nella riduzione dei costi all'interno delle aziende, ma anche dal punto di vista della sostenibilità. ambientale. Premiamo progetti che siano di filiera, proprio per questo da quasi un anno abbiamo attivato questi quattro tavoli che cercano proprio di mettere insieme quelle che sono le migliori idee su queste poi che sono le quattro smart specialization, quindi strategie di specializzazione e intelligente.